benvenuti a compila quindi va eccoci buonasera 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 sono sempre più scuro ma non so come migliorare perché faccio le live troppo presto e quindi con le live troppo presto succede che fuori c'è ancora il sole per contrasto la cam mi mette più scuro di quello che sono perché vede la luce oddio mi è sparito mi è venuto a perfetto questo buco della maglia che match perfettamente il colore della trasparenza e fa molto un effetto anni 80 quando c'era tipo super classifica show che c'era il dj con la testa a forma di di palla da discoteca c'erano questi belli effetti un po strani nei vari nei videoclip con la gente trasparente grazie 3d 0 underscore 100 underscore forse è silent come la d di django grazie per il follow abbiamo appena 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 cominciato questo disegno che viene che va è bellissimo allora vediamo intanto se è tutto a posto perché qui sono partito un po finito di lavorare dieci minuti fa e quindi così era un po che hanno poi deciso se farlo meno ma buonasera valerio ti vedo ti leggo quindi ma compare anche qua non mi ricordo mai da che direzione no adesso è giusto quindi buonasera 3d 0 breviamo in abbreviamo il nome così più comodo poi vedo che la prima volta che partecipi la chat quindi do il benvenuto questo un canale dove facciamo intanto un po di di programmazione della serie siccome non abbiamo abbastanza durante il giorno per mestiere facciamola un po anche in così in mente strano questa sera che effetti forse non mi sono ingrandito ma meglio perché l'ultima live che abbiamo fatto soprattutto in due riflettevo la si legge è giusto è vero il cavolo edo edo but but by the way giustamente giustamente mi scordo sempre che quando ci sono le i numeri lo faccio con le password poi me lo scordo in altre in altre occasioni quindi è un classico allora qui sembra tutto a posto del filo avviato adesso magari lo abbassiamo ma ci mettiamo anche la musichetta di sottofondo non troppo alta perché dopo finisce che mi dà fastidio ma l'ultima volta mi mancava un po e quindi vediamo che non sia troppo alta allora argomento in realtà questa live è un po una prosecuzione di quello che avevamo già iniziato la volta scorsa ma effettivamente un pochino è un pochino alta forse a me forse risulta a me ma adesso faccio così poi spero che non sia eccessivamente alta ma nella prosecuzione di una live che abbiamo già iniziato la settimana scorsa precisamente dove abbiamo iniziato un po vedere alcune cose legate a costruire un'interfaccia utente con con dei in questo caso sfruttando una una funzionalità dall'altro non ho controllato adesso che la mia testa stava seguendo un thread parallelo mi sembrava ci fossero sul canale 199 follower quindi edo direi sei duecentesimo forse dovrei controllare ma se non sbaglio il numero 200 del poi c'è chi si iscrive e si disiscrive e quindi che per me sono un traguardone nel senso che non considerato l'argomento di cui parlo abitualmente come dire avercene avercene non fa piacere ovviamente di allargare un po la community dicevamo tornando noi che onore giustamente si infatti non c'è purtroppo nessun premio ma forse è meglio così perché magari mi metto un po più comodo torniamo all'argomento quindi stavamo sviluppando un'applicazione cina in realtà molto diciamo banale senza nessun obiettivo particolare se non quella di vedere un po delle tecniche per sfruttare quella che si chiama visual form inheritance ovvero la programmazione ad oggetti quindi una cosa che tutti gli sviluppatori dovrebbero conoscere e se non la conoscono dovrebbero anche i non sviluppatori dovrebbero conoscere la programmazione oggetti quasi è applicata però all'interfaccia visuale quindi come se andrebbe non so uno sviluppatore andrebbe a modellare quello che è una gerarchia di classi di clienti o fornitori derivandola da un generico da una classe contatto oppure anagrafica o qualcosa del genere l'atomo interfaccia utente si fa praticamente la stessa cosa ovvero si deriva ciao cristian anzi ciao tizzo qua si parla si sono solo i nick perché magari se c'è chi vuole andare in incognito io quando bazzico un po' altri canali ormai sono vengo battezzato compila quindi perché più ciao compila di solito questo che suggerisco anche perché più corto e più sbrigativo alla fine ci sta dai come ovviamente nick completo diventa troppo lungo il nome non si sa dire sempre non viene sempre in mente quindi e dicevamo quindi il concetto è applicare la programmazione oggetti ma anche l'interfaccia visuale quindi questo cosa vuol dire che avremo abbiamo nei progetti generalmente delle interfacce da realizzare potremmo avere delle interfacce che possono fungere come si dice o anche pungere dipende un po dai casi come modello come template non da copiare ma da ereditare per creare delle interfacce discendenti che aggiungano a queste interfacce di base delle funzionalità l'altra volta abbiamo fatto una dialog quindi abbiamo messo il nostro progetto seguendo anche un po di suggerimenti che arrivano dalla chat delle delle opzioni quindi l'abbiamo un po raffinata abbiamo creato una dialog c'è una finestra vuota praticamente inclusiva però dei pulsanti di ad esempio ok a nulla allineati correttamente alla parte bassa della finestra con la gestione dell'invio dell'esc che tipicamente in windows si usano per confermare o quest'ombra che si vede è il gatto che si vediamo una coda comparire il gatto che prende posto nel nel suo trespolo e ha mangiato ha fatto tutto quindi adesso giustamente si è di posa beato lui quindi abbiamo fatto una finestra che praticamente tranne l'uso in uno specifico contesto aveva tutto ciò che una finestra di dialogo generica può desiderare quindi tutti i tab della gestione dell'invio appunto come dicevamo dell'annulla aveva l'icona il tasto ok annulla una piccola validazione la possibilità di abilitare la conferma solo in determinate condizioni aveva un pochino un po tutte queste cose questo quindi tutto ciò che in dialog è generico ma non quello che è specifico quindi quello che specifico abbiamo ottenuto arreditando da questa quindi creandone un uguale non duplicandola ma facendo un discendente quindi una classe che vuota ma come base di partenza non ha una finestra vuota appunto ma una finestra che ha già delle caratteristiche questo vuol dire che se mettiamo tutta la cura possibile nello strutturare uno dialog fatto come si deve possiamo sfruttarla nel nostro progetto in modo da avere come dire ovunque ci serve una dialog una dialog ben fatta senza ripetere continuamente le stesse operazioni senza scrivere codice almeno non più del dovuto e noi l'abbiamo anche scritto ma perché abbiamo voluto fare le cose fatte benissimo usando le azioni quindi con proprio tutto ciò che ci si aspetta altrimenti avremmo potuto sfruttare in moda resalta avremmo potuto abbreviare tranquillamente la cosa facendo un'operazione più semplice però abbiamo voluto perfezionare ancora di più la soluzione la parte su cui mi concentravo stasera li abbiamo quindi usati form ma quello che abbiamo visto non vale solo per i forum vale anche per i frame che sono in delfi almeno visto per l'esperienza con un po di facendo consulenza un po qua e la sono ancora una bestia un pochino sconosciuta e ciò è un peccato perché in realtà sono uno strumento molto potente sono meno utilizzati rispetto ai form perché i form ok qualcuno li utilizza e c'è chi sfrutta come dire l'ineritance quindi visuale e questa è una buona cosa ma ci sono verso i frame un po più diffidenza perché i frame non sono una finestra ma sono solo un pezzo dell'interfaccia però possono comunque avere un ruolo fondamentale ad esempio rappresentando un riquadro che visualizza delle informazioni riguardo a un elemento e quindi si può ripetere cioè sono pezzi di interfaccia che noi possiamo progettare come le finestre quindi ci trasciniamo dentro controlli mettiamo la logica gestiamo gli eventi facciamo tutto quello che facciamo nei form salvo che non è roba che si presenta con un riquadro una barra del titolo ma può essere trascinata di nuovo su altri frame o su altri form in fase di progettazione addirittura oppure in certi casi creati dove serve creati anche a runtime e ne posso creare un'istanza ne posso creare due istanze quindi con quelli io posso realizzare anche di come dire delle delle interfacce fatte in un fatto come dire in un certo modo con una certa cura metto metto l'effetto sonora ma anche questo effetto che non mi ricordo alla striscia notizia ok quindi come fare questa cosa ad esempio un ambito di utilizzo che io ho trovato o vedete qua sotto si vede leggermente il micio che compa perché la cam non è abbastanza vedete qua nell'angolino che c'è compaiono le orecchiette del gatto che sta in realtà lui il suggeritore che sta dietro le quinte suggerisce quello che che devo dire ok mettiamoci più comodi quindi cosa possono essere usati i frame i frame come da introduzione che ho scritto un po in giro sui social di questa live uno degli usi più frequenti a meno che faccio io per sopperire la prima volta che sento parlare di delfi il mio background è una conoscenza base di cc++ python e giulia giulia non lo conosco e che è interessante questo giulia andrò a vedere di cosa si tratta perché a proposito di delfi non mi stupisce questa cosa perché abbiamo fatto proprio non molto tempo fa un paio di settimane una forse metà il mezzo scorso perché sembra ma i giorni passano una live su sfatare i miti riguardo delfi perché questo non ho sentito parlare di delfi non ho sentito parlare male poco eccetera è una cosa molto molto diffusa e quindi abbiamo fatto una live apposta per sfatare un po i miti di chi c'è già lo conosce e magari non ha ben presente le potenzialità e chi invece non ha mai sentito parlare e abbiamo fatto proprio questa live con questo obiettivo è un po diciamo io utilizzo diversi linguaggi di programmazione delfi c sharp studio javascript eccetera perché lavora anche sul front end con tutto quello che ne consegue che tml css framework vari però per applicazioni mobile o applicazioni su windows mi preferisco ancora di gran lunga delfi quindi giulia è molto interessante nativamente parallelizzabile compilato logite sintassi molto semplice quindi tutte le caratteristiche che mi fanno piacere un linguaggio di solito perché è una delle diciamo delle prerogative che abbiamo sottolineato di delfin in quella live ad esempio è stata una live abbiamo fatto in due è stato il fatto di avere un codice molto leggibile quindi compilare nativamente di avere supporto appunto multi trading multi core eccetera e quindi poter fare delle applicazioni particolarmente ottimizzate di poter usare diversi compilatori per diverse piattaforme tant'è che delfi supporta ad oggi windows mac linux android ios quindi semplicemente però da partendo da un single source quindi un po come avviene con con flutter tranne che questa è una possibilità che abbiamo più o meno da 8 10 anni forse ma meno 8 quindi comunque giusto perché ci siamo quindi arriviamo un attimo al al core della della puntata come si dice l'obiettivo sarebbe creare un applicazione windows però vedere un po come superare quel quella limitazione legata al fatto che molti adottano ancora oggi un approccio quello mdi cioè la multi document interface che è una roba che penso sia deprecata da vent'anni ma è talmente immediata da utilizzare che molti si buttano su quella e non valutano magari del 2014 come dice beh xe2 è uscito secondo me anche un po prima però si diciamo che prendiamo prendiamo le versioni che funzionavano perché xe2 è una sorta di tietido anche il compilatore qua c'è una cosa che si chiama farmocchi a sorpresa e poi arangeti cioè penso che la stabilità d'oggi di farmocchi sia veramente diversa da quella che era nelle prime versioni quindi si dai potremmo dire 2014 comunque parliamo già di un po di anni fa dove ha iniziato a arrivare questi nuovi compilatori quindi l'obiettivo di stasera è vedere come sfruttare i frame per fare qualcosa di alternativo all'interfaccia mdi in realtà io l'ho già fatto più volte nel corso delle live costruendo anche delle applicazione cine xe2 totido copilatore esatto e sempre il totido vuol dire feature supportata però ad esempio nella penultima versione di delphi 10 c'è un totido lsp però c'è la possibilità di usare anche il vecchio code insight per scrivere codice perché lsp funziona e anche al momento ha un po di cose ancora da correggere però intanto totido così testi mi piace questo questo diventerà il nuovo modo di dire quando c'è una nuova feature che però è un po ballerina non funziona bene è il totido ti dico che c'è e poi dopo ok quindi intanto facciamo provaci se ti va bene compila esatto tu prova al massimo compila però non va a differenza di come ottimisticamente ci aspettiamo e quindi quindi l'effetto sonoro sarebbe questo quando succede allora avviamo delphi anzi no l'ho già avviato senza accorgermene forse l'ho avviato prima della live pure e boh sono in dubbio se fare un progetto nuovo partire da quello della volta scorsa ma magari facciamo un assemble all'ultimo all'ultimo che avevamo fatto beh magari gli diamo un'occhiata giusto per ripassarci un attimo cosa avevamo combinato così allora cambio la visualizzazione così si vede che invece che la mia testa si vede anche qualcos'altro non so perché adesso sono invertito ah beh perché sono di qua ok va bene ok la volta scorsa abbiamo fatto un test della nostra dialog base che poi in realtà è diventata il test di una dialog per il login quindi che era cambiata e che avevamo fatto di bello qua non si non si legge nulla abbiamo messo giù un po' di codice abbiamo fatto la nostra dialog di base come avevamo descritto prima avevamo messo giù una una dialog con dentro quindi la finestra tutte le impostazioni del bordo impostate con il divieto di minimizzare e massimizzare niente icona un po' di azioni con la possibilità di fare non so vedo se riesco come dire la parte di accettazione e annullamento quindi premendo sui pulsanti sono associati a queste azioni sono agganciati a un image list che gli da anche le icone nel momento in cui venivano pigiati c'era un po' di codice che andava aveva messo un po' di documentazione così quando in giro si fa riferimento a questa classe tendenzialmente adesso qui magari non compare però se apro quella di login che avevamo rivisto un po' così vediamo dovremmo vedere la guida in linea che compare ah il control me la frega perché me lo mi toglie mi toglie l'help quindi abbiamo l'help in linea con la documentazione poi potremmo produrre la documentazione un xml quindi fare un po' tutte queste cose quindi abbiamo fatto questa dialog con dei metodi da ridefinire che chiudevano semplicemente la form accettando e annullando e poi nel nostro login form avevamo creato un discendente vedete che non partiamo da tform a dialog form abbiamo aggiunto le due caselle per fare utente e password e rivisto l'accept con un po' di verifiche tipo che il nome sia stato indicato altrimenti spostiamo il focus sull'edit dello username facciamo vedere deve inserire il nome utente facciamo il controllo sulla password altrimenti chiamiamo il metodo ereditato che di fatto ci chiudeva la dialog e quindi era un po' una proposta sia dal punto di vista di impostazioni proprietà e altro di una dialog realizzata e anche ereditata quindi questa la vediamo così perché tutta questa parte i pulsanti è un po' come dire non ha molte proporzioni che i pulsanti sono giganti queste caselle sono piccole però era un primo timido approccio al creare una dialog partendo da un esistente quindi ridimensionandola mettendo dei controlli e implementando una logica però la stessa cosa si può ottenere creando un nuovo discendente da questa finestra e così via quindi dicevo quello che invece vediamo questa sera è il poter strutturare un'applicazione fatta come dico io a pagine a pagine vuol dire che se avete presente Outlook come funziona Outlook in Outlook non vedete non è né MDI né vedete grosse form modali vedete delle finestre esterne quello si ma grossomodo avete una parte a sinistra dove voi selezionate vedete qual è la ciò che volete visualizzare tipo la cartella dei messaggi i contatti e sulla destra vi appare praticamente l'interfaccia che avete selezionato quindi un elenco di messaggi da una da una delle cartelle della vostra mailbox oppure i contatti oppure le note insomma la visualizzazione di ciò che avete selezionato quindi abbiamo un'interfaccia fatta da una finestra dove c'è una parte che seleziona cosa vedere e una parte che fa tecnicamente comparire il contenuto della pagina selezionata perché molti apprezzano come dire l'approccio MDI che credo che noi troviamo qui dentro non multi device ma multi MDI application quindi l'MDI application è il vecchio approccio di Office degli anni 90 quindi un'interfaccia che contiene tante finestre che si possono minimizzare e ridurre cosa che io non ho mai trovato onestamente molto comoda ho qualche software la maggior parte dei software che io uso non adottano questo approccio però volendo fare un esempio citandone uno che invece uso per fare un po' di audio editing si chiama ad esempio goldwave questo tipicamente fa uso di questo di questo approccio cioè ricava a parte che adesso sono iniziato a comparire delle informazioni qui sotto il programma è cambiato però se ad esempio voglio creare un nuovo un nuovo sound da registrare faccio new mi compare questa finestra se ne vado a creare un altro mi compare una finestra sono allineata orizzontalmente questo è l'approccio MDI ovvero più documenti qui abbiamo il primo qui abbiamo qui c'è il primo qui c'è il secondo se massimizzo questo ovviamente non li vedo tutti e due però ho il menu windows da cui posso passare dall'uno all'altro il problema è anche dato dal fatto che generalmente io tengo attive qui non le vedo per qualche strano motivo forse perché fanno parte anche esse delle finestre no non vedo manca una finestra che mi faccia vedere i livelli classic control eccolo qua horizontal control ok ci sono cioè c'è una sospettamente simile ad audacity e non so chi è nato prima perché questo posso confermare che è un software molto molto vecchio che nasce negli anni 90 secondo me torno a 93 o qualcosa del genere sarei curioso di vedere perché io l'utilizzavo negli anni 90 per fare audio editing quindi ho il timore che in questo caso sia audacity che abbia preso qualcosa da qui prendendo in realtà da altre software ancora tipo soundforge mi sembra si chiami quello della sony che grossomodo funziona nello stesso modo dicevo qui ho questo classic control diciamo che questa interfaccia non mi piace perché queste finestre flottanti allora questa esce e non sta qui dentro questa è quella principale se massimizzano li vedo tutte e due posso sì scegliere di fare una una range di fare un cascade di metterle una sovrapposta audacity del 2000 e allora audacity è più nuovo questo è più vecchio lo so perché con questo facevo i mixaggi che poi portavo su masterizzati su cd-rom una volta gli ho consegnato uno al dj prezioso che è uno dei miei idoli di gioventù ma in realtà non ho ancora e quindi una volta gli ho consegnato diciamo una mia versione di una cosa che faceva lui e quindi ricordo che questo software ci sono particolarmente affezionato cosa bella è che ho preso una licenza quest'anno qui appare non registrato perché ogni volta che si aggiorna il software va reinserito perché va a rimuovere dei setting però finalmente ho preso una licenza perché se lo meritava dopo 20 anni di onorato servizio ci sono un sacco di effetti no mi piace questo come l'unica cosa che non mi piace è proprio l'interfaccia MDI perché ho un altro software del mi sembra proprio soundforge o altri che ho utilizzato che invece adottano comunque delle finestre praticamente in docking e per qualche motivo le trovo più comode poi chiaro parliamo di come dire di gusti e quindi però ci sono in queste interfacce non pochi problemi perché se vediamo se la riduco un po' perché adesso è massimizzata vediamo che praticamente la barra del titolo qui è in perfetto stile Windows 11 con le sue possibilità di come dire essere ancorata quindi al bordo stondato eccetera però internamente vediamo che lo stile non è purtroppo lo stesso perché questa maledetta multi document interface è come dire è deprecata Microsoft non aggiungono l'API e quindi nei momenti in cui si vanno a creare questo tipo di form ci troviamo degli stili non adeguati o delle cose che insomma non sono sono dei glitch funzionano cioè correttamente e poi diciamo che a livello di gestione anche massimizzandole insomma preferirei ad esempio qui davvero non dovendole a meno che non abbia bisogno di confrontare due forme d'onda secondo me l'ideale sarebbe un'interfaccia a tab come quella di un browser ecco quella mi piace molto e quindi potrebbe essere un template da andare a ricercare in qualche modo da utilizzare quindi che facciamo questo era giusto per dare un'idea di applicazione MDI come poche ce ne sono perché io non ne ho ad esempio il vecchio il vecchio del F7 ma no non è neanche MDI perché mi sembra che poi avesse la quella toolbar principale e poi tutto diciamo flottante quindi direi che non si può utilizzare come esempio ecco non è il massimo massimizzato c'è un'icona qui quando si chiude sembra di chiudere cioè a volte magari uno apre tutto vuole chiudere solo quella finestra e chi viene integrata nel menu invece va a chiudere tutta l'applicazione insomma non non mi piace come approccio quello che mi piacerebbe è avere un'interfaccia da scambiare in una zona principale poi potremmo decidere se creare quindi che lavori con delle pagine o comunque delle interfacce intercambiabili come potremmo fare così iniziamo anche a fare qualcosa creiamo chiaramente una nuova applicazione VCL restiamo in VCL al momento come la potremmo chiamare potremmo chiamarla allora MDI Multidocument noi facciamo la PDI la Page Document Interface o qualcosa del genere scusate il nome il nome veramente brutto ma PDI allora questa la chiamiamo Forms Main Pass perché è il nostro Mainform e poi questo lo chiamiamo PD Demo così siamo quindi a pagina cosa intendo dicevo qui mettiamo un selettore tra l'altro abbiamo in Delfi anche delle cose interessanti potremmo usare una preview però potremmo usare anche come si chiamano Category Panel Group che io non uso da una vita quindi adesso sta a vedere che mi vado a New Panel tipo creare infatti poi non mi ricordo come si utilizza Category Panel qui si potrebbero mettere dei pulsanti immagino perché questo fa poi da categoria ok è giusto per avere Add Control ah perfetto quindi c'è anche un Add Control Button però non è allineato ok New Panel ad esempio potreste avere una cosa fatta in questo modo facciamo il classico adesso un esempio un po' brutarello ma il classico gestionale dove qui magari abbiamo un'anagrafica qui abbiamo una contabilità ok qualcosa del genere quindi non stiamo a fare troppe eh cosa facciamo mettiamo un pulsante allineato al top gli diamo una dimensione un po' più grande e qui potremmo avere una cosa del tipo clienti ehm poi potremmo aggiungere anche un altro pulsante che chiamiamo fornitori che poi in generale poi sono contatti eh affini quindi a volte non c'è neanche bisogno di fare questa distinzione e contabilità abbiamo le le fatture anzi preventivi ehm mettiamo qui mettiamo ordini fatture quindi un qualcosa del genere che ricalca un po' più o meno e poi un page una dashboard o qualcosa del genere questa la chiamiamo pddemo andiamo a cambiare il name mettiamoci main form qui i nomi li lascio un attimo così ecco ovvero un qualcosa del genere e poi chiaramente c'è quest'area vuota dell'interfaccia poterci magari andare ad aggiungere un pannello che potremmo chiamare page panel pannello dove compare le pagine sono intese come videate potremmo anche battezzarle come view non lo so eh dipende un po' dalla nomenicatura che vogliamo usare ma usiamo page che la view potrebbe essere un qualcosa di diverso ma vabbè eh quindi andiamo in align mettiamo align client gli togliamo la caption così non vediamo nulla potremmo dargli anche un bordino eh interno magari invece che ehm che vada in giù cioè che dia un minimo di profondità insomma le classiche cose che facciamo eh all'interno di di una di un'applicazione quindi il concetto è cliccando qui io magari vado a cambiare e mi metto eh eh vado a scegliere una pagina che mi faccia vedere qualcosa di diverso supponiamo ad esempio quindi come potremmo come potremmo strutturarlo ehm quello che potremmo fare ad esempio è andare a creare un un frame di base che abbia le caratteristiche tipiche di una di una pagina eh ovvero che caratteristiche diciamo che che generalmente sarà una pagina vuota però potrebbe avere eh ad esempio un titolo o comunque un la possibilità di eh restituire magari un image index e quindi fare qualcosa eh che riguarda tutte le pagine non so un titolo da mostrare qui in alto eh vediamo un attimo mettiamoci un altro panel così lo allineiamo al top esatto vabbè forse non volevo proprio farlo così col titolo se no il titolo potremmo metterlo anche mettiamolo nella nella barra del titolo ecco così siamo siamo a posto barra del titolo mettiamo il titolo giustamente eh quindi il concetto è perché ci può essere utile creare una come dire una pagina base da cui ereditare tutte le nostre pagine perché essendo una pagina base farà riferimento a una classe potremmo usare la classe come tipo per rappresentare una pagina generica laddove poi eh questa può essere sostituita da una classe di una pagina specifica cioè il fatto di avere un antenato comune ci abilita tutte le potenzialità che generalmente sfruttiamo con la programmazione di oggetti ad esempio il principio di sostituzione il famoso liscov substitution principle come dice eh che tra l'altro liscov è una donna quindi una parte dei principi solid eh che dice che ovviamente una utilizzare una classe base eh viene cioè propedeutico per poter passare qualsiasi discendente ovvero generalizzare una logica per poter funzionare con diversi tipi di interlocutori che siano eh chiaramente uniformi tra di loro nel nel modo di di funzionare quindi noi creeremo tante pagine le pagine avranno tutte le stesse caratteristiche tipo un image index tipo non lo so vediamo a vedere potremmo anche far sì che queste pagine si registrino nel sistema affinché eh questa è una cosa che può essere interessante potremmo anche prendere in considerazione eh affinché questo elenco non sia un elenco eh come dire generato in fase di progettazione ma magari prodotto tramite una una registration cioè eh qualcosa che all'avvio del progetto prende in considerazione tutte le pagine ne legga i nomi ne legga le caratteristiche e eh queste queste pagine vengano ad esempio diano un titolo un'immagine e vengono mostrate qui perché abbiamo deciso in questo caso di implementarle quella può essere eh ad esempio una via possibile quindi questo elenco lasciarlo dinamico eh e far sì che ogni pagina una volta creata registri se stessa eh indicando magari una categoria qui ha un nome e quindi la categoria corrisponderà il gruppetto di pulsanti e il nome quindi questa è una cosa che potremmo da un certo punto di vista ehm provare a progettare ehm partiamo partiamo da ad esempio dalla pagina base quindi perché ognuno di queste considerazioni se siamo bravi e siamo abbastanza generici le potremmo anche fare eh in un secondo momento cioè noi possiamo sempre scrivere codice adattando l'architettura poi alle nostre esigenze e quindi decidere in un secondo momento di appunto ehm procedere cioè fare esattamente come come abbiamo pensato prima quindi dobbiamo aggiungere un file singolo eh un file delphi andremo ad aggiungere un vcl frame quindi creiamo un'interfaccia che conterrà dei controlli che rappresenterà la nostra pagina base ad esempio la nostra pagina base potrebbe essere mediamente più grande delle dimensioni standard di un frame eh siccome verrà ricamata ricavata non ricamata non stiamo facendo ricamo all'interno di un pannello e tendenzialmente andrà a occupare tutto lo spazio potremmo decidere qui di impostare già eh qui la proprietà al client in modo da eh come dire far sì che si adatti già automaticamente a tutto a tutto lo schermo quindi questo potremmo già farlo mettiamo al client al client al client andiamo a salvare quindi la chiamiamo frames eh chiamiamola page base base o base page ok qualcosa del genere questa è la unit il nome è base page frame perché alla fine è sempre un frame quindi questo è il frame che difficilmente andremo a creare in sé per sé ma è il nostro modello per costruire tutte le altre pagine dell'applicazione mio gatto sotto la mia ascella che si vede qui che compara ogni tanto ciao eh mi guarda con aria di di sufficienza diceva che diavolo vuoi fai la tua live e non mi rompe le scatole c'ha ragione c'ha ragione dicevamo quindi visualmente cosa potremmo aggiungere io direi poco e niente a meno che non debba avere un colore specifico in partenza perché nulla ci vieta poi di iniziare a fare non so delle delle maschere bianche o colorate o col blu ma adesso io di solito le facevo così ma partono già bianche quindi non abbiamo dei grossi problemi a livello di codice potremmo ecco introdurre già ciò di cui parlavamo prima ovvero iniziare a dargli delle caratteristiche ad esempio togliendo un po' delle cose che dei filmetti default potremmo dargli un fare una function get mettiamo title perché io leggo guardando un altro schermo e quindi potrei la funzione get title che restituisce il titolo ad esempio della pagina siamo all'home page siamo nei clienti fornitori ne faremo una per ogni videata quindi ogni videata avrà un titolo essendo che poniamo questa condizione mettiamola già virtual in modo che si possa fare l'override e definire un nuovo nome da dare che sarà diverso da pagina a pagina un'altra cosa che potremmo introdurre è function get caption non caption sono sbagliato category pensando a quello che ci è venuto in mente prima di eventualmente categorizzarla in qualche modo generare i pulsanti in maniera automatica in realtà queste potrebbero potremmo anche considerarle quasi delle class function cioè mi spiego quando noi avremo a che fare erediteremo questa classe abbiamo la possibilità cioè il nome della pagina cioè il fatto che è una grafica e clienti lo sarà uguale a prescindere dalla noi creeremo generalmente una sola istanza di questa pagina potremmo anche avere più di una però la sua categoria il suo titolo diciamo che saranno sempre le stesse quindi potremmo anche decidere di definirle come class function cioè ogni classe definisce le sue ma non sono diverse da istanza istanza ma semplicemente da classe a classe questo ci ci consentirebbe di leggere anche queste informazioni senza andare a creare un'istanza ad esempio per la famosa registrazione mettiamo che all'avvio del progetto andiamo a dire al progetto guarda che c'è questa pagina c'è anche questa pagina il progetto potrebbe così ecco con questo buco nella maglia si legge anche l'orologio il progetto potrebbe andare così a inventariare le pagine sapere il nome che avrà e il raggruppamento la categoria senza però creare un'istanza che è la cosa che andremo a fare quando cliccheremo sul pulsante che ci attiva a tutti gli effetti una pagina cioè scegliamo cliccare il pulsante vuol dire scegliere una classe e predisporre un oggetto la classe rappresenta la videata che vogliamo vedere l'oggetto è la videata in quanto tale su cui possiamo lavorare quindi questo tipo di idea diciamo che che mi piace un'altra cosa che potremmo mettere è un facciamolo così un getImageIndex cioè restituisce anche l'indice di un'icona da usare perché potremmo decidere di magari predisporre un image list una lista di immagini con delle icone eventualmente numerate oppure qui potremmo andare per stringa per chiave usare l'image key vediamo cosa ci torna poi più comodo ne faremo una per fare un esempio di implementazione e quindi magari l'icona da vedere sul pulsante per ogni immagine quindi l'obiettivo è sempre quello di costruirci un po' le basi per far si che quando dobbiamo creare una nuova pagina ereditiamo e già abbiamo la pagina tutto ciò che non cambiamo rimane un default e ci deve andare bene tutto ciò che vogliamo rendere specifico lo andiamo a personalizzare ma non ripetiamo mai due volte quello che facciamo all'interno del progetto mi segnala ovviamente gli errori perché dobbiamo implementare queste questi metodi io qui sarò molto generico nel senso che come title e come category do una stringa vuota e come image index do il meno uno che generalmente non corrisponde a nessuna immagine quindi dovremmo avremmo potuto anche definirli come stratti però non mi sembra magari ecco il caso di essere troppo rigidi cioè in questo caso terremo ad esempio una categoria di quelle con categoria non definita perché magari poi l'appetito viene mangiando nulla vieta che si possa un domani mettere questa classe in un package e creare dei package che potrebbero essere fatti da noi o da un nostro cliente o da qualcun altro che prendendo quella base vada a creare dei package con delle estensioni quindi magari la nostra applicazione parte carica il package cerca le classi all'interno quello che trova lo va a inventariare e mette giù i pulsanti e i gruppi soprattutto quindi nel momento in cui abbiamo un package abbiamo l'implementazione troviamo il pulsante e attiviamo la pagina nel momento in cui togliamo quel package perché ad esempio il cliente non ce lo paga non è un modulo che ha acquistato avremo una pagina in meno e quindi potremmo da questo step arrivare anche una modularizzazione dell'intera applicazione step by step esternalizzando quel register e portando anche queste pagine fuori da questo progetto e mettendole dentro dei package e usando i package runtime quindi usando delle librerie e andandole a ricercare all'avvio del progetto cercando le classi specifiche che implementano le pagine sapere come si chiamano in che categoria vanno e costruire dinamicamente l'albero delle opzioni che vediamo che io ho messo al momento manuale dentro la form principale quindi questa ce la siamo implementata andiamo a questo punto a fare una prova creando un discendente ovvero supponiamo che quando abbiamo l'applicazione noi finiamo nella home page andiamo a creare la pagina iniziale del progetto quindi facciamo add new other e qui nella inheritable items quindi nel progetto aperto abbiamo sempre gli elementi che possiamo ereditare quindi la visual form inheritance alla fine è tutto qui il prendere ovviamente una base di partenza che può essere un form chiaramente il main form potenzialmente può essere una base di partenza ma non non lo è in questo caso nel nostro caso è il nostro base page frame cioè il frame per fare la pagina di base che diventa il nostro elemento da cui ereditare una pagina quindi selezioneremo questo gli diamo a dare un ok vedete che compare un frame che a differenza di quello predefinito è già più grande ed è già per default allineato al client cioè cosa vuol dire qui la proprietà align già è impostata a differenza del come dire del valore predefinito align client che vuol dire occupa tutto lo spazio disponibile non è in grassetto perché quando noi salviamo questo file la proprietà è impostata così perché è eredita dalla classe da cui deriva questo valore quindi il suo default è questo abbiamo cambiato il default nella classe della pagina base questo è in grassetto perché il default è align non cioè non allinearti noi l'abbiamo abilitato ereditando da quello questo diventa il nostro nuovo default quindi se noi lo cambiamo il valore non lo troviamo in grassetto perché non viene streammato cioè non viene messo non è che fa stream su twitch non viene streammato dentro il file dfm cioè il file che contiene i valori di queste proprietà tutto ciò che è il default non viene inserito per evitare di rileggere perdere tempo rileggendo da un file da una risorsa un valore che va impostato ed è uguale a quello di partenza di fatto quindi tutto ciò che qui trovate impostato sono i default e se non lo vedete in bold vuol dire che non viene salvato quindi questo lo potremmo chiamare ad esempio frames lo potremmo chiamare qui c'è base page potremmo chiamarlo potremmo fare un ma no chiamiamolo home page vediamo le cose semplici questa è la nostra home page ovvero questo è il nostro home page frame che di nuovo in questo caso rappresenta la nostra home page generalmente nell'home page cosa mettiamo? mettiamo una label ok con scritto sopra che ne so benvenuto 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 e poi magari diamo un font bello bello visibile che si veda anche dallo spazio poi vabbè non so se allinearlo o meno ma si andiamo in allineata align top magari potremmo mettergli delle altre caratteristiche per il momento lasciamolo così accontentiamoci di di avere questa questa etichetta che ce la rende subito riconoscibile ovviamente perché poi qui potremmo avere non so l'epilogo fatture in scadenza potremmo aggiungere una marea di informazioni data or corrente l'utente con cui si è logato potremmo metterci tutte le informazioni che vogliamo mettiamo anche vogliamo mettere un un'immagine mettiamo un'immagine facciamo così mettiamo l'immagine allineata al client la label non allineata così sta sotto caro control bring to front grazie spostati anche un po' e qui ci possiamo caricare qualcosa la picture possiamo caricare un bel jpeg se lo accetta dov'è che potrei avere dei jpeg utenti pubblica immagini pubbliche sfondi abbiamo un bello sfondo delphi like qualcosa da però abbiamo degli sfondi developer che quelli ci stanno vediamo questo poi vediamo come viene vediamogli lo stretch molto brutto sì perché non è proporzionale giustamente vabbè tanto questo poi non è non è importante quindi anche se si streccia male non mi interessa lo lascio così da label metto il testo in bianco perché quando si è influenzati ok tanto per riconoscerla non è che dobbiamo fare questa è la nostra home page quindi come strutturare la nostra pagina ovviamente avremo diversi tipi di pagine ad esempio andiamo a costruire la pagina dell'anagrafica quindi faremo other ineritable items attenzione che anche la pagina che abbiamo appena creato può diventare la base per una pagina nuova quindi potremmo creare una pagina che a dispetto di una pagina vuota magari una pagina orientata a visualizzare dei dati ad esempio però non si sa ancora quali dati quindi anche qui come la programmazione oggetti non abbiamo classe superiore classe derivata a copie cioè ne potremmo avere un'intera gerarchia dove abbiamo una pagina vuota pagina per i dati che ha già magari una griglia una navigazione e aspetta solo di definire la query per sapere su quali dati lavorare la pagina che invece fa da non so da dettaglio può avere tutti gli elementi di una struttura però senza avere poi i campi specifici cioè noi possiamo creare quante livelli vogliamo a seconda delle differenze che individuiamo all'interno delle varie pagine che creiamo e che vogliamo mettere però a fattore comune esattamente come si fa con la programmazione di oggetti in questo caso voglio creare una nuova pagina partendo da zero quindi parto dalla base questa la chiamiamo fra non so mettiamo di fare una pagina di opzioni così option page oppure si va bene dai option page invece che una dialog usiamo option page frame la pagina delle preferenze e qui ci possiamo buttare ci possiamo sbizzarire possiamo mettergli non so qualcosa tipo avvia collegati avvia automaticamente l'avvio di windows o qualcosa del genere adesso ovviamente abbiamo metto una check box con cioè tutto puramente demo è descrittivo ovviamente non fa quello che diciamo ma lancia automaticamente all'avvio di windows ho scritto una boiata ora adesso correggo automaticamente e poi potremmo metterci boh possiamo metterci quello che vogliamo tanto non lo so qui ci scriviamo tanto questo è tanto per avere due pagine non è che sia livello di perché lascio indietro livello di tolleranza e poi potremmo metterci una bella track bar così uno si configura il livello come vuole bla 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 e qui c'è l'option page quindi anche questa allora in realtà ci mancano un po' di cose cioè dobbiamo definire gli eventi i metodi chiave ad esempio get page come li ho chiamati andiamo qui quindi dobbiamo prendere questi metodi queste funzioni e fare l'override ovviamente non più virtual ma spero di non aver beccato qualcosa che sia come dire in conflitto ma mi sembra di no questa var a parte non servire in generale assolutamente non serve nemmeno qui e controlliamo che non siano in creazione automatica anche se questi sono sempre frame quindi non dovrebbero esserlo ma non mai fidarsi ed eventualmente spegnere l'opzione cioè se andiamo a vedere forms abbiamo il main form tutti questi vanno creati all'occorrenza anzi questo non va creato perchè leggermente viene creato il discendente non avrebbe senso vabbè avrei una pagina vuota ci può stare però le pagine intenzionalmente vuote le troviamo sui libri e non sull'interfaccia ctrl shift c ad esempio questa è l'option potrei dire che la categoria strumenti il nome preferenze e image index lascio ancora per il momento meno uno perchè non ho ancora deciso se o meno fare metterci le immagini per il momento ma ovviamente lo stesso identico preciso discorso va fatto per l'home page che abbiamo solo inizializzato ma non ci abbiamo messo nulla questa fatta scomparire e non so perchè la mette perchè la mette abitualmente sui form vuole mettere anche qui ctrl shift c che implementiamo i metodi result uguale e qui metteremo generale come categoria o qualcosa del genere titolo pagina iniziale e qui result stiamo sempre a meno uno quindi qui sto customizzando le le mie come dire le mie pagine a tutti gli effetti ora ora non resta che fare una cosa provare andarlo a visualizzare quindi qui adesso faccio un bel il copy paste e invece che una grafica qui ci scrivo il generale e qui metto pagina iniziale e poi questo lo tiro via poi c'è una parte che sorry ho fatto incolla dentro quello non è proprio il massimo che possiamo anche ridurre tra l'altro però non voglio mi sa che gli ho creati troppo grandicelli però questo è giusto per dare un'idea ma si può usare ovviamente una preview o qualsiasi d'altra cosa non è che e qui mettiamo questo gli diamo name anzi gli diamo caption varie eccetera eccetera o strumenti era strumenti opzioni ok una cosa del genere poi magari andiamo a dare un nome mi sento proprio giusto 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 un secondino e quindi perché vado a prendere un goccio d'acqua e torno all'istante all'istante in mia assenza lascio di solito la papera del debugging a vegliare e poi torno subito proprio un secondo ok 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 eccoci qua torniamo nella nostra videata scusate ma dovevo andare a prendere una cosa fondamentale l'acqua quindi rimetto via la papera che ci ci aiuta a debuggare infatti qualcuno ha già trovato preferenze giusto l'abbiamo chiamato così l'abbiamo chiamato così chiamiamolo così preferenze ok dai seguiamo lo stesso standard che dopo facciamo confusione ottima segnalazione allora quindi adesso quello che andiamo a fare direi è visualizzare queste pagine poi in quest'area e eventualmente anche sulla barra del titolo una cosa che potremmo fare ad esempio è partire dall'home page e poi dare la possibilità qui non è opzioni ma pagina iniziale ho fatto un po' di ok pagina iniziale ok di visualizzare in automatico questa pagina iniziale oppure vabbè al momento potremmo lasciarlo vuoto e vedere un attimo di impostarla su comando e come potremmo farlo allora io qui generalmente cosa faccio annetto del abbiamo il nostro main form quello che potremmo fare è aggiungere banalmente un metodo show page chiamiamolo così chiamiamolo come vogliamo che ci consente di visualizzare una pagina l'ideale sarebbe che qui aiuto ho fatto un danno che qui ecco questo non fa danno ci noi andassimo a passare a selezionare quale pagina vogliamo visualizzare l'ideale sarebbe usare un valore che identifichi direttamente come dire la nostra pagina quindi potrebbe essere il nome della classe potrebbe essere la classe direttamente io generalmente adotto quel tipo di di approccio ovvero passo direttamente la classe abbiamo diversi modi giamente nei linguaggi qui dovremmo passare non so tipo in c sharp passeremmo quello che è un type cioè quello che noi dobbiamo passare è il tipo di pagina da creare non la pagina perché la pagina dobbiamo crearla qui dentro quindi è un po' come quando noi appoggiamo un componente sul form quello è come se noi scegliessimo una classe di componente da istanziare qui dobbiamo istanziare la pagina quindi dovremmo avere un type che corrisponde alla pagina però che non sia appartenente a un'altra famiglia cioè type noi quindi invece che type useremmo t class ma t class è un tipo generico che rappresenta una qualsiasi classe intanto è interessatissimo avere come strumento i class reference perché ci in è una cosa che in altri linguaggi non ci sono e che è talmente elementare ed è talmente comoda che è quasi irrinunciabile almeno per me quando non lo trovo perché ad esempio in un linguaggio come C sharp dovremmo passare una cosa del genere un type cioè il parametro che vogliamo passare è il tipo della pagina che vogliamo creare solo che type è generico cioè indica un qualsiasi tipo quindi se dentro il passo string non è valido cioè quello che io voglio ha tutti gli effetti è un parametro quindi è un page è un page type quindi qui al post di type potrei metterci essendo in delfi class quindi passo una classe ma io non voglio qualsiasi classe voglio una classe che corrisponda a una pagina cioè qui show page devo passare se passo class posso passargli anche t object e poi t object cosa me ne faccio cioè la nostra classe deve essere una pagina perché? perché la pagina ci dà il titolo ci dà l'immagine ci dà la categoria ci dà tutta una serie di informazioni che noi necessariamente dobbiamo estrarre da una pagina è vero possiamo castare però possiamo anche fare così usare una cosa che delfi ci dà proprio incorporato che è il costrutto class off ovvero il class reference cosa sono? noi sappiamo di avere una base page frame quindi una cosiddetta classe che rappresenta tutte da cui derivano tutte le pagine della nostra applicazione in questa unit perché è quella poi condivisa da tutte potremmo anche pensare di aggiungere una page class cioè il tipo questo nuovo tipo il tipo page class che cos'è? è un class off base page frame cioè cosa vuol dire? che ovunque venga usata un parametro o una variabile che appartiene a questo tipo a quella variabile può essere passato un riferimento a qualcosa che è una classe purché sia una classe che come minimo derivi da tbase page frame che è poi questa che è una classe diciamo astratta che deve essere ereditata per forza quindi in questo modo abbiamo trovato il tipo per il nostro parametro ovvero tu mi passi un page class qui me lo evidenzia perché non ce l'abbiamo nelle uses quindi andiamo a prenderci qui il nostro base page andiamo a mettere add to sezione interface andiamolo ok e adesso il tipo lo accetta quindi facciamo un ctrl shift c complete class and cursor e abbiamo do visualizzare la pagina specificata questo è quello che dobbiamo fare quindi il parametro di input è la classe della pagina da creare cioè noi dovremmo creare un'istanza di quella pagina ok e andare a visualizzarla quindi andare a estrarre delle informazioni che ci servono da mettere nel titolo andare a stanziarla andare a posizionarla dargli il parent quindi ha un controllo visuale è la classe di un controllo visuale che però appartiene a un tipo che di fatto ci seleziona la gerarchia vuol dire che qualunque cosa passiamo qui dovrà essere per forza una pagina non potrà essere un tbutton tcontro tobject questo cosa vuol dire che dobbiamo mettere ad esempio il titolo nella nella nostra mainform se noi usiamo questo pagetype e facciamo punto troviamo category getImageIndex getTitle perché li troviamo? perché abbiamo detto che come parametro passiamo una classe perché vogliamo creare un oggetto di quella classe la classe rappresenta la pagina da creare in quanto pagina quindi con quel classoff abbiamo classificato quel tpageclass come un tipo che corrisponde un valore che corrisponde al tipo di una pagina un suo discendente quindi i metodi che normalmente troviamo sulla classe tipo il titolo la categoria li possiamo tranquillamente possiamo andare a leggere andare a utilizzare perché appunto passeremo un page class quindi e non una qualsiasi classe un qualsiasi tclass un qualsiasi riferimento a una classe che non è di quella gerarchia ma sarà una classe che deriva dalla nostra pagina base quindi i metodi della pagina base sono accessibili una prima cosa che possiamo controllare prima di fare qualsiasi cosa è if a page type uguale nil o per dirlo in altro modo if assigned page type cioè if not assigned page type exit o eccezione dipende un po' adesso da quello che vogliamo fare perché questo exit se no tu mi passi come mi passi nil come riferimento a pagina da creare io ovviamente non posso farci nulla e quindi ti rispondo in questo modo un po' brutale e ti dico tantarangi cioè non posso andare a creare la pagina che mi hai richiesto un'altra cosa che potrebbe verificarsi ok è che mi venga richiesto una pagina che sia uguale a quella attuale e se ce n'è una attuale dovremmo andare a distruggerla quindi già da queste due condizioni apprendiamo un concetto cioè il fatto che dobbiamo andarci a salvare da qualche parte la pagina corrente quando l'abbiamo creata quindi qui come membro private della nostra form dovremo metterci un campo page che contiene l'ultima pagina che abbiamo istanziato perché qui ne creiamo una alla volta perché abbiamo un'area centrale non possiamo vederne più di una quindi di che tipo sarà sarà un base page frame quindi è l'istanza della pagina che creiamo da visualizzare mentre il page class è il riferimento alla classe della quale dobbiamo creare un'istanza ossia la pagina quindi questo è un parametro a cui passiamo riferimento alla classe di cui dobbiamo creare l'oggetto che poi salveremo qui se poi la visualizzazione inizializzazione va a buon fine questo è il risultato quindi se non abbiamo un page tab selezionato usciamo se abbiamo una pagina già visualizzata e stiamo chiedendo la stessa non dobbiamo ricaricarla cioè se abbiamo assigned f page quindi abbiamo una pagina già sullo schermo questo sarà un riferimento che è a nil e poi assumerà di volta in volta il valore della pagina che andiamo a creare quindi se assegnato vuol dire che stiamo già visualizzando qualcosa quello che stiamo visualizzando è la stessa cosa che stiamo cercando di creare perché se io vado su Outlook e clicco su post in arrivo lui mi fa vedere post in arrivo se clicco su oggi mi fa vedere oggi se riclicco su oggi non fa nulla cioè la pagina è la stessa quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo dire che se c'è una pagina e la classe della pagina è la stessa è la stessa che noi stiamo cercando di visualizzare quindi come facciamo facciamo f page punto class type class type partendo dall'oggetto ci dà riferimento alla sua classe se la sua classe è uguale a page type cioè il tipo che vogliamo creare allora non facciamo non facciamo nulla cioè abbiamo una pagina e la pagina come famiglia è la stessa che mi stai chiedendo di creare e allora è già lì non abbiamo bisogno di creare un'altra quindi non mi hai passato la pagina mi hai passato una pagina uguale tutte precondizioni che se non sono verificate ce ne usciamo ce ne andiamo fuori se invece tutte queste sono superate vuol dire che a questo punto dovremo andare a creare una pagina inizializzarla come facciamo ci facciamo una bella var ok usiamo una variabile locale poi spiego il perché cioè il riferimento lo memorizzo all'interno di una variabile locale e non in fpage perché in fpage ce lo vado a mettere se tutto va a buon fine cioè noi questa pagina adesso abbiamo determinato che è da creare perché non è stata specificata non è uguale alla precedente quindi la pagina va creata il costruttore e il fatto di visualizzarla e tutta la serie di operazioni eventuali di inizializzazione potrebbero non andare a buon fine quindi quello che succede se non va a buon fine è che noi dobbiamo se abbiamo creato la pagina liberare la memoria e dobbiamo anche a questo punto lasciare la pagina che c'è quindi decidiamo dopo se visualizzare l'errore o meno ma in caso di errore dobbiamo lasciare tutto com'è quindi intanto devo provare a crearla quindi metterò una variabile l page o chiamiamola n new page se preferite l new page perfetto due punti uguale come farò a crearla ho il page type che è il parametro che mi viene passato questo qui che mi rappresenta la classe chiamo create che è il costruttore e in questo caso vado a creare un'istanza quindi lascio come jolly un parametro che mi consente di selezionare la classe di cui io creerò un oggetto quindi ti lascio scegliere la pagina io qui ti vado a creare l'oggetto come owner mettiamo self ovvero il form perché in questo modo se nessuno distrugge esplicitamente questa pagina alla chiusura della finestra ci pensa il form e non abbiamo memory leak annetto che poi il processo si chiuda questo comunque è buono perché se abbiamo il report dei memory leaks non otteniamo visualizzazioni quindi a questo punto dovremo inizializzare il segnale il parent andare a recuperare il titolo cioè dovremo come dire fare un pochino di cose in sequenza mettiamo inizializzarla che può voler dire intanto dargli il parent sono tutte operazioni che potrebbero ricondurre un errore quindi io introduco non questo costrutto ma questo qui un try except per qualsiasi eccezione quindi generico a cosa mi serve qui vado inizializzare la mia pagina se succede qualcosa di brutto cosa vado a fare vado a fare l new page punto free non free notification e faccio un raise cioè cosa vuol dire succede un errore inatteso perfetto la pagina provo a crearla se non riesco a crearla verrà prodotto un'eccezione ed esco di qui se riesco a crearla dovrò inizializzarla in caso di errore la distruggo e risollevo l'errore cioè lascio che l'errore fluisca in modo che verrà poi gestito da delfi o da un gestore esterno o sarà comunque visibile però intanto siccome la pagina sono riuscito a crearla ma non a inizializzarla la pagina la distruggo in modo da rilasciare la memoria eventualmente occupata come in page al momento a cosa potremmo pensare potremmo pensare al fatto che la new page dovrà avere un parent cioè un contorno contenitore e noi abbiamo già fatto il page panel cioè quel pannello ok che visualizza praticamente sta al centro della finestra e dentro e quindi gli verrà creata questa pagina per evitare problemi di nomea dei componenti siccome anche runtime delfi da dei nomi arbitrari o da lo stesso svuotiamo il nome del componente facciamo sì che i nostri componenti abbiano un name vuoto in modo da non da non incappare nell'errore c'è un nuovo componente che ha lo stesso nome questo è un po' l'obiettivo quindi impostiamo il nome della nuova pagina gli impostiamo il parent normalmente visibile quindi a questo punto non avremmo è inutile che gli vada delle coordinate tanto gli ho dato il parent qualunque coordinata abbia c'è una line client quindi il pannello già occupa tutto lo spazio la pagina ci finisce dentro e si allinea tutto lo spazio quindi dovrebbe essere già sufficiente come operazioni addizionali che potrei aggiungere tra le cose da fare nel momento in cui ho creato la pagina potrebbe esserci ad esempio potremmo mettere sul nostro self caption il titolo dell'applicazione che adesso non mi ricordo come l'abbiamo chiamata pdi demo ok la metteremo come grazie grazie Delphi per le tue la metteremo come costante adesso trovo un posticino qui sotto dove andarla ad aggiungere oppure potremmo fare un resource string str app name uguale non scritto così ma scritto così in questo modo ce l'abbiamo sempre pronta quindi self caption app name più quindi concateniamo usiamo magari il format guardo pure un po' a capo così nel format mettiamo categorie e titolo della nostra della nostra paginetta quindi come lo facciamo facciamo percentuale s c'è una stringa che è il titolo poi tra quadre mettiamo la categoria oppure potremmo mettere un trattino categoria trattino titolo della pagina ma si dai mettiamolo così qui come lo recupero lo recupero da page type o da new page perché poi entrambi hanno ovviamente queste informazioni chiaramente come array poi andiamo title ok giusto perché sono operazioni che possono fallire quindi questa la facciamo per ultima adesso vado a fare qualcosa del genere lì quindi mettiamo nome dell'applicazione più uno spazio categoria spazio titolo della pagina e questo possiamo recuperarlo da lì o anche da new page che dir si voglia che fosse più corretto quindi se arriviamo qui vuol dire che siamo riusciti a fare tutto direi o quasi a questo punto la pagina l'abbiamo anche visualizzata quindi f page diventa l new page un momento però attenzione prima di diventare l new page infatti questa roba la terrei magari fuori come 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 ultima operazione proprio prima di diventare new page se f page contiene un riferimento quello va distrutto quindi dobbiamo fare la seguente cosa se page è assegnata facciamo free and nil di f page cioè prima di salvarci il nuovo riferimento dobbiamo andare a togliere la pagina precedente quindi eliminiamo la vecchia e ci salviamo riferimento alla nuova che è già stata creata visualizziamo il suo nome qui e poi direi che questo dovrebbe avere concluso la logica di visualizzazione quindi non ho una pagina esco ho una pagina dello stesso tipo di quella che sto visualizzando e allora esco perché non devo ricrearla a questo punto la creo gli imposto il pannello in caso di errore la distruggo e sollevo l'errore per farlo gestire quindi la mia è una gestione parziale dell'eccezione se invece ce la fa distruggiamo la pagina vecchia si è assegnato ovviamente e ci salviamo riferimento alla nuova pagina dopodichè siccome l'abbiamo mostrata andiamo ad aggiungere sulla caption il titolo dell'applicazione con categoria e titolo della pagina il nome dell'applicazione questo è un po' più o meno il la logica che ad esempio ci porta niente poi di cioè sostituite la pagina con un qualsiasi controllo un pannello immaginate di passare qui un panel class cioè una classe di un pannello di tipo diverso o un controllo diverso stiamo di fatto creando a runtime degli oggetti che in questo caso corrispondono appunto dei pezzi di interfaccia che rappresentano non una finestra non completa non un pezzettino piccolo di interfaccia ma una videata quindi che noi andiamo a sostituire in questo modo cosa potremmo dire che magari alla creazione intanto mettiamo delle chiamate di prova andiamo sul pulsante della home page quindi qui potremmo usare come nome come name chiamiamolo home button questo chiamiamolo option button tanto per dare un po' di nomi significativi quindi per visualizzare una pagina cosa facciamo facciamo semplicemente show page e poi gli va passato il tipo della pagina ad esempio includiamo tutte e due le nostre unit quindi implementation perché le usiamo qui e qui siamo home button home page frame e il gioco è fatto cioè chiamo show page e gli passo il la classe della pagina da creare quindi questo andrà a creare quel tipo di pagina se uso l'option button farò show page ok mi chiede il page type t option page frame quindi ogni volta che io ho bisogno di questa cosa la vado a richiamare in questo modo l'effetto che ottengo qual è se abbiamo scritto tutto correttamente lancio senza debugging perché mi fido da questi pannelli mi piacciono per questo che si si collidono e si espandono però vabbè a parte quello quindi al momento non abbiamo nessuna pagina attiva faccio pagina iniziale e abbiamo il nostro benvenuto chiudiamo questo andiamo in preferenze abbiamo le preferenze con questa roba qui torniamo in pagina iniziale quindi possiamo fare tutte le di switch che vogliamo e abbiamo fatto un'applicazione strutturata in questo caso a pagina abbiamo la classe base abbiamo il tipo corrispondente per poter usare il tipo anche come parametro lo andiamo a visualizzare e teoricamente dovremmo anche essere protetti da memory leak perché la pagina assegniamo il form quindi nel momento in cui chiudo non faccio la free esplicità ma ci pensa comunque il form perché è il suo owner quindi questo self è abbastanza importante per quanto qui essendo il main form non avremmo dei grossi problemi e quindi con una decina di righe di codice abbiamo implementato questo tipo di di approccio potremmo vedere da qui come estendere la l'opzione magari con una con una register con qualcosa del genere c'è un c'è un problemino da frequente da risolvere quindi intanto mi bevo un altro goccio d'acqua che oggi non so che ho ma sono messo un po' così potremmo andare a fare quello che dicevamo all'inizio ovvero una sorta di registrazione di creare un registry per le nostre finestre e generare dinamicamente questo tipo di questo tipo di elenco intanto potremmo fare una piccola miglioria cioè quando abbiamo il progetto facciamo vedere l'home page questo come lo otteniamo andiamo sul main form o ridefiniamo il costruttore oppure andiamo sull'oncreate quindi a vostra preferenza e discrezione show page qui scegliamo di visualizzare la home almeno in questo caso questo cosa ci serve che se facciamo run senza debug quando parte parte già con la home visualizzata viene già un po' più carino proviamo a generare in automatico questi menu come potremmo farli intanto dovremmo andare a rimuovere tutti questi questi pannelli quindi anche qui interessante perché poi il selettore anche di quello che andiamo a mettere questi pannelli potrebbe essere tranquillamente un non saprei un frame anche in quel caso come dire ogni scenario può essere buono per utilizzare un frame come potremmo fare tant'è che questi pulsanti non li abbiamo neanche allineati li abbiamo proprio creati così brutali allineati al top o forse li abbiamo allineati ma c'è un c'era un gliccino un piccolo gliccio ok proviamo a generarli in automatico come facciamo diamo un nome a questo controllone category panel group chiamiamolo non page panel perché page selector category panel group allora page group quindi gruppo di pagine abbiamo category panel ok abbiamo i pulsanti controlla category buttons ha un items come property quindi andiamo a vedere così mi ricordo questo dici category buttons ah items scusa ma hai detto allora allora qui gli items non ne vedo ah un altro componente ok ora ti ho capito ce ne sono troppi non me li ricordo tutti quindi vediamo com'è che questo funziona cioè tu gli dai gli dici category editor category editor caption facciamo clienti ah fa proprio il si infatti questo è proprio quello stile come dire stile object inspector ho usato category panel si che per controlli generici mentre avrei dovuto mettere perchè ho fatto semplicemente new panel e lui non si è posto dei grossi beh category panel diciamo che è giusto perchè la categoria è corretta però come dire al posto di questi due pulsanti io dovrei metterci questa cosa qui magari allineata o qualcosa del genere comunque non è non è non è non è fondamentale direi quindi button collection c'è anche una button collection c'è un button color qui vedo sempre le stesse comunque non è importante poi non è importante se nasci leone o gazzella l'importante è che come dice Aldo se muore me lo dici prima allora cioè possiamo usare anche i pulsanti pare che questi vengono un po' un po' piccoli però forse perché se gli si aggancia poi un'immagine category buttons sicuramente avranno uno style per essere anche più più grossini button 8 flow vertical option c'è fill full size true show caption bold caption caption only border full size facciamo un po' di button 8 ad esempio io l'ho impostato ma non gli piace molto fa un po' come gli pare fa un po' come gli pare si fa cambiare per sto a dire sull'oggetto nelle property non so dove intendi l'ho visto negli esempi di delfia ok questo è sempre lui questo aggiunge solo pannelli questo aggiunge solo pannelli ha supporto gli stili quello si quindi vabbè comunque non ci interessa poi più di tanto il controllo che usiamo anzi va poi bene così quindi come potremmo fare intanto dovremmo farci una sorta di di register e quindi qui andremmo come dire si cioè non è poi l'interfaccia non è poi importante anzi faccio delle preview di solito non mi ricordavo che c'erano questi controlli ma non non è poi che debbano dobbiamo usarli per forza al massimo delle loro allora potremmo fare quindi qui un chiamiamo pdl core chiaramente questa è una proposta di impostazione ma capite bene che quello show page potrebbe anche essere un'open page che invece di salvare in una variabile in un campo creando una nuova pagina magari può salvarne una lista come parent può scegliere magari una nuova tab page quindi usare il control il page control perché la nuova pagina metterci dentro il controllo e quindi a quel punto abbiamo una lista con n istanze dello stesso della stessa pagina il get title o get caption che dir si voglia come può essere rinominato così può essere un'istanza dell'oggetto invece che della classe e restituire un titolo uniforme e qualcosa che sta ad esempio all'interno all'interno del nostro oggetto cioè la nostra pagina possiamo crearne n copie in quel caso andremo a farle così mettete ad esempio un'applicazione di chat che parte vuota ogni persona che si collega manda un messaggio deve aprire una nuova finestra di chat in quel caso potremmo avere diverse pagine o anche una pagina che rappresenta la sessione di chat e crearne più istanze dove ogni istanza la mettiamo in un tab control e in quel caso invece il titolo non è più ovviamente fisso ma potrebbe essere il nome dell'utente che vuole parlare con noi e cliccando su ciascuna di quelle istanze possiamo andare ad attivare la chat e implementarla una volta sola e creare tutte le istanze che vogliamo quindi questo è un po' l'utilizzo che potremmo fare dei frame quindi quella è un'interfaccia una questione è l'interfaccia una questione è l'host cioè dove viene creata che può essere una parte centrale dell'applicazione può essere un nuovo tab può essere... aggiungere una lista è utile perché quando le abbiamo nella lista oltre a sapere quali sono nei tab potremmo avere un menu e creare tanti item quante sono le pagine che vediamo e far si che cliccando si va ad attivare la pagina corrispondente cioè con questi frame possiamo veramente attivare un unico form e dentro fargli prendere vita l'applicazione scambiando delle viste facendo una navigazione oppure creandone diverse istanze dentro di tab possiamo gestire l'interfaccia come vogliamo e le variazioni sono talmente tante e ovviamente si tratta poi di scegliere quella più congeniale per l'utilizzo che rispetto alla gamma che possiamo come dire implementare sul classroom totalmente qualsiasi approccio MDI che è fisso e come abbiamo visto non funziona proprio al 100% soprattutto se iniziamo a parlare di stili se iniziamo a parlare di controlli che potrebbero avere insomma più di un problema con quel tipo di di approccio e con poco codice o zero codice perché al momento avremmo scritto veramente tre righe di codice possiamo dare una struttura alla nostra applicazione usando queste pagine oppure andandole a creare adesso qui sto facendo una specie di registro ma vedete che è un'operazione banale se faccio PDI core faccio ad esempio page chiamiamolo registry ok oppure core pages quindi funzionalità core dell'applicazione le pagine la gestione delle pagine ho una unit vuota quindi type e vado a mettere dentro ad esempio un page registry che è una classe banalmente che può essere chiaramente creata in qualsiasi momento per fare le proprie funzionalità e avrà ad esempio una tra l'altro io ho usato sto usando come classe direttamente il frame ma nulla vieta di creare delle classi che rappresentino queste pagine a prescindere dal frame e fare sì che ognuno abbia un metodo che restituisce il frame da usare come oggetto per la visualizzazione cioè le nostre pagine potrebbero anche essere degli oggetti t page con degli elementi descrittivi tra i quali elementi c'è anche la classe del frame che implementa la vista cioè io ho unito un po' come dire visualizzazione e dati ma potremmo anche tenerli slegati avere due gerarchie che si riferenzino cioè le possibilità sono talmente tante quindi qui facciamo una procedura register che attenzione è sempre un nome un po' delicato perché c'è anche la register è una un register cioè per togliere eventualmente la pagina cosa passo ok io qui ho fatto la scelta di come dire di andare ad associare la pagina al mio frame quindi banalmente mi importo la unit del base page della mia interface così accedo alla classe e ovviamente quello che andrò a registrare qui è un page class o se volete chiamarlo page type e page class chiamiamolo qui usiamo il termine class usiamo il termine class non voglio fare un register e lo vado a eliminare ovviamente dove memorizzo queste informazioni potrei avere ad esempio una lista con un dizionario un dizionario potrei averlo in fondo i puntatori sono valori interi quindi potrei potrei perché tanto la classe avrà un indirizzo quindi forse con un dizionario me la cavo aggiungiamo qui alle unit la generics collection e qui mettiamo page pages chiamiamolo pages via così dictionary vediamo se me lo fa scegliere perché non è non è detto che e come valore mettiamo string perché magari ci salviamo il titolo qualcosa del genere chiaramente qui faremo un constructor create per andare a inizializzare quantomeno un dizionario ci faremo una destroy che non fa mai male potremmo chiaramente definire tutto come interfaccia restituirlo come interfaccia potremmo fare tante cose interessanti una cosa che potremmo fare ad esempio è questa potremmo aggiungere un inizialization e un finalization mettiamola così mettiamola così mettiamola così creare qui dentro ad esempio un default facciamo una bella class function default un po' come il message manager che ha un default cioè creiamo qualcosa nella classe che ci dia direttamente un'istanza da utilizzare come registro di default per intenderci un approccio tipo singleton come quello che adesso magari carico qui message manager quando noi usiamo questa classe abbiamo la proprietà default manager esatto che fa da global instance questa roba qui che noi potremmo tranquillamente riutilizzare in questo contesto per fare più o meno la stessa cosa quindi aspetta questa non ci interessa c'è facciamo una class var qui nel private ok e una class function ok che ci da il default get default se scrivo solo get default si si offende no? spero cioè ci da il default il default registry quindi qualcosa del genere questo default poi chi lo finalizza ah c'è anche il class destructor ok giusto perché quando il tipo viene scaricato ovviamente qui viene istanziato e qui viene scaricato giustamente mi capita praticamente mai di usare il class destructor prima volta che mi capita di ok quindi di per sé come funziona poi qui c'è anche la property ok default manager facciamo anche noi ma si dai facciamo anche noi vedete che l'utilità anche di poter non può sbirciare nella nella vcl che a volte diciamo ah però così si chiama qui si chiama default e non è proprio il massimo eh chiamiamolo default registry chiamiamolo così dai get default registry così non ci sbagliamo di tipo page registry che legge get default registry ok qualcosa del genere poi ce lo andiamo a implementare sembra talco ma non è no sembra difficile ma non è poi difficile abbiamo nella create cosa facciamo intanto chiamiamo il costruttore ereditato anche se poi nel t object non è che ne abbiamo un bisogno dobbiamo creare questo dizionario che è il dizionario delle nostre pagine ok punto create e ovviamente dobbiamo eh if assigned se lo troviamo assegnato in fase di istruzione fare la free e nil che ci serve system sys utils grazie che dovrebbe essere quella che contiene sta roba qui perfetto quindi distruggiamo inelite destroy ok grazie default registry andiamo a vedere che if assigned default manager gli ho dato oddio ci è rimasto anche questo f questo è il nome quindi se assegnato questo anzi if not assigned default registry uguale t page registry punto create ok e in ogni caso noi restituiamo il valore di questo flag di questo campo anche la class var devi aggiustare ah ok è quello che ho appena fatto giusto? sì sì l'avevo lasciato indietro ma tutti i nodi vengono al pettine ecco la register farà una semplice add page class e qui facciamo page class get title tanto lo salviamo come informazione descrittiva ma non ci interessa ci interessa diciamo più che altro la la chiave un initialize che lo sposto un po' su è il nostro distruttore quindi qui andremo a dire che quando la classe viene rimossa se il default registry è assegnato facciamo free and mill e in questo modo non dobbiamo neanche questo è meglio dell'inizialization finalization perché in questo caso se questa classe non viene utilizzata anche se la unit è importata in giro non va a aumentare la dimensione eseguibile perché non viene usata la classe non viene usato niente se invece ci fosse un initialization o finalization la classe viene compilata perché c'è una variabile che viene inizializzata finalizzata ma magari nessuno la usa quindi come approccio è più secondo me è più interessante questo del lan register l'ho messo solo per ovviamente tanto per andare a corredo una cosa che dovremmo quindi fare è ottenere la lista di queste classi oppure farci creare addirittura una specie di di enumerazione ma no dai non complichiamo troppo le cose facciamo quindi una function get pages inteso come array di page class teniamo fuori le pagine che abbiamo registrato all'interno del nostro oggetto come funziona questa roba facciamo result andiamo sul nostro dictionary page abbiamo le chiavi dovrebbe esserci un bel to array perfetto ciao e fine della della discussione eh fatto così il nostro page registry gli mettiamo il cappellino e magari non funzionerà mai però quello che possiamo fare a questo punto nelle nostre pagine tranne la base possiamo come dire mettiamo che noi siamo qui creiamo la nostra home page home page frame qui potremmo dire qui la uso così perché altrimenti non ne usciamo eh t page dobbiamo andare a utilizzare la unit ovviamente la nostra core pages scriveremo t page registry default registry eh register t home page frame quindi ogni unit va a registrare se stessa come pagina che può essere utilizzata all'interno dell'applicazione che si arrabbia perché non ha ovviamente il riferimento alla unit sta ancora compilandosi ok quindi nel nostro for main andiamo ad aggiungere anche qui la unit in questo caso in implementation così ce l'abbiamo e nel nostro page group si ho capito delfi che sei stanco anche tu ma tieni botta che facciamo la procedura procedure init menu ok la chiamiamo così eh andiamo per gradi come diceva Fahrenheit andiamo per gradi allora prendiamo il nostro page registry usiamo il default facciamo un get pages e le pagine ce le abbiamo for in var l page class in l pages ok cioè numeriamo poi questo potremmo anche chiamarlo l page classes ok però va benissimo oppure facciamo banalmente così tanto questo lo usiamo una volta sola quindi la eh cosa facciamo andiamo a creare vabbè dovremmo creare delle categorie dovremmo anche ordinarli per categoria però ok dai non non complichiamo magari troppo la cosa andiamo a creare un bel category panel fammi prendere ad esempio questo mi faccio niente Delfina non vuole saperne di collaborare quindi quindi andiamo a fare un il pannello per la categoria dovremmo ovviamente verificare se l'abbiamo già creato però adesso lì ci limitiamo un attimino facciamo semplicemente una cosa del tipo var r l category panel uguale t category panel punto create loner sempre self in caso di errore in caso di neve colmar no category panel free erase altrimenti proseguiamo e qui cosa facciamo gli diamo come parent il nostro page group ok gli mettiamo la caption insomma più o meno direi che l'intento si è capito in get category collapsed false eccetera eccetera poi andiamo dentro a metterci un pulsantino e quindi partiamo diciamo così da in questo caso se arriviamo qui possiamo dire possiamo aggiungere il page button chiamiamolo che è un t button appunto create oppure andare a fare la button list come si diceva prima l'approccio oppure una preview quello che volete tanto page button free non free notification ma free e basta grazie raise ok in caso di errore il page button ovviamente assume come caption la page class title ok forse la possiamo mettiamola in ordine così page button parent gli andiamo ad assegnare il category panel di qui sopra poi che altre proprietà c'erano? poca roba c'era un'altezza si le tengo in ordine alfabetico così mettiamo 40 facciamo cifra tonda align al top align due punti uguali alle top la caption l'abbiamo messa eh solo un click che sarebbe interessante dargli un evento assegnargli un evento come dire che qui sarebbe interessante ovviamente creare anche dei controlli per il menu facciamo una cosa del genere page button punto no in realtà possiamo farlo non è bellissimo non mi piace tantissimo non mi piace tantissimo facciamogli una option button click scegliamo magari nel momento che poi andiamo a rinominare anzi procedure page button click tanto poi è talmente semplice l'evento è un notify event quindi lo possiamo creare in un secondo torniamo qui quindi page button click senza questo possibilmente per andarlo a richiamare mi scordo sempre che noi abbiamo un tag che possiamo usare non mi piace molto perché page class si dobbiamo castarlo ovviamente in questo modo direi non mi piace molto mi piacerebbe avere più una proprietà però come dire al momento potrebbe funzionare in quanto è il modo più sbrigativo che abbiamo di prendere quindi da un button che è il nostro sender prende dalla proprietà tag il valore var l page class è uguale a questo tag però t base view ovviamente opportunamente castato page class e usiamo quello ah beh scusa questo è un no no scusa un page class non è un'istanza ma è sempre la classe giustamente quindi ok e in questo modo gli abbiamo anche agganciato un evento per ogni pulsante che cliccato va a prendere dal pulsante stesso la classe da creare e quindi possiamo buttare abbiamo anche generalizzato la creazione della relativa pagina non mi piace molto per l'uso di questo tag un po' a escamotage però come dire si fa di necessità virtù allora togliamo questi eventi che a questo punto direi non ci dovrebbero servire più così come potremmo svuotare in toto come dire tutta la nostra casella quindi partiamo proprio da una tabula rasa facciamo un build e vediamo se funziona qualcosa in menu giustamente l'abbiamo messo ma non l'abbiamo mai invocato quindi andiamo sull'on create e lo mettiamo qui facciamo un run senza debugger in fiducia vedo che c'è un pulsante preferenze mi sa che mi sono dimenticato di allineare il pannello in qualche modo però dovrebbe allinearsi da solo il category panel category panel della malora t button category panel group forse il new panel fa anche delle cose in più però non c'è il top a zero non è che per caso questo controllo simpatico c'ha un metodo per aggiungere si delfi tieni botta ahah che il nostro page group non ha un metodo aaaah create panel vedi che ce l'ha create panel non so se dagli self o dagli lo stesso Ma me l'hai creato come controllo? Cosa fa questa CreatePanel? Ah perché si possono ovviamente ereditare le classi. GetParentCategoryClass ok perché possiamo fargli creare una classe specifica di pannello. Cioè possiamo ereditare CategoryPanel e dirgli di creare quello al post di come gli elementi dell'Attribute è interessante. Comunque la CreatePanel di default fa un bel CategoryPanel. Cioè possiamo sostituire questa classe con un discendente in questo modo potremmo agganciargli ad esempio delle funzioni in più come qui ad esempio indicare la categoria. Quindi ci sta come vediamo se questo risolve la visualizzazione si voilà ha fatto voilà vediamo preferenze ok vedo che cambia pagina iniziale preferenze chiaramente ricreando da zero vedete che le preferenze se anche io le cambio cosa succede che se vado qui e torno qui le trovo all'inizio perché viene fatta una free una create della pagina ovviamente perché la pagina viene distrutta va da sé che però la pagina andrebbe a ricreare allora qui dopo ci sono altre tante altre varie alternative potremmo decidere di tenere queste pagine in una lista e non ricrearle ma dopo andarle solo a ripristinare cioè creare se serve ma se c'è già prenderla e sostituire la precedente senza fare la prima tenerla quindi in questo caso ci teniamo lo stato oppure come in questo caso è ovvio che se io in una run della mia applicazione le apro tutte sto occupando memoria inutilmente oppure potrei anche decidere una politica di non so ogni volta che la invoco tengo un tempo se vedo che c'è un po di tempo in cui la pagina non viene utilizzata io la vado a scaricare e magari nello startup vado a fare un'operazione iniziale che non faccio se la pagina è già stata inizializzata non lo so quindi cioè magari in fase di creazione vado qui a ricaricare le opzioni se la pagina c'è ancora continua a mantenere le stesse oppure sono tante le formule che possiamo usare per bilanciare ovviamente l'occupazione di memoria la velocità di caricamento tenerle tutte organizzate in diverso modo potremmo ad esempio per così una prossima volta testare l'approccio con i tab o con qualcosa del genere per vedere varie usando tipo una chat o qualcosa del genere poi magari ci inventiamo qualcosa per sfruttare i frame per creare delle finestre avere dei tab magari avere la chiusura avere tutto tenere le censite quindi però vedete che con pochissimo codice la classe praticamente più lunga che abbiamo scritto è quella del page manager del registry che poi potrebbe anche cioè registry poteva anche stare sulla main form e avere dei metodi cioè questo è per dare una parvenza di architettura alla nostra applicazione senza che sia troppo buttata lì però rimane comunque un qualcosa di come dire molto semplice da come si può vedere non è un come dire qualcosa di complesso rimane comunque gestibile è il codice non è poi così difficile perché quello che abbiamo fatto è creare delle cose a runtime ma usiamo sempre così le parti di le funzioni di delphi però abbiamo già una pagina è chiaro che voglio creare una nuova pagina da visualizzare che ne so la pagina dell'anagrafica clienti io come potrei fare veramente in pochissimi istanti faccio other vado elementi ereditabili prendo la mia base page frame e la eredito ok me la vado a salvare ovviamente e la chiamerò la chiamerò customer page ok questa variabile non mi serve la tiro via vado nel gli do anche il nome customer page frame e così l'ho battezzata poi ovviamente il gravoso sarà creare l'interfaccia però facciamo che al momento butto dentro una string grid non fateci troppo caso allineate al client qui c'è la griglia con tutti i vari pulsanti una toolbar l'elenco delle che ne so delle dei miei clienti una db grid qualcosa del genere e la mia pagina è completa salvo che devo aggiungere ovviamente la sua iscrizione al registry quindi inizialization devo prendere il mio page registry anche questo il fatto di avere un default singleton è comodo perché usiamo questo e non dobbiamo provvedere a nient'altro io con questa struttura so già che questa verrà inclusa nella nel menu principale devo ovviamente dargli le impostazioni ovvero get category devo fare la get title la get image se voglio devo fare questo tipo di operazioni però nulla di complicato faccio l'override dei relativi metodi risalte qui metterò clienti category metterò chiamiamola anagrafica ok e a questo punto se è inclusa nel progetto e farà la register proviamo a compilare andiamo qui e vediamo che tac è comparsa la nostra clienti quindi ce l'abbiamo già oltre a pagina iniziale preferenze abbiamo i clienti e qui non si vede ma c'è la grid la string grid che sta qua in alto e poche non ha delle righe fisse quindi se non si vede bene ma c'è e qui è un'altra pagina con cui io posso commutare basta che ci metto il codice e ho già creato la mia pagina poi ovviamente subentra il concetto di questa clienti che posizione ha se ha una grafica qui deve stare prima cioè dopo da questo punto di vista sono magari delle informazioni che potrebbero essere disgiunte però da quella che la registrazione dell'interfaccia però vedete che più o meno la dinamica è questa non è che cioè si lavora dopo sull'architettura su magari disgiungere la visualizzazione cioè il frame dalle informazioni della pagina facendo delle altre strutture che a livello di oggetti esprimano i metadati della pagina più che identificare tutto con la pagina stessa quindi magari avere una registrazione avere una priorità avere degli indici che consentano di estrarre le informazioni e costruire il menu come come si deve ma a livello base vedete che comunque si lascia si lascia molto utilizzare questo grazie ai frame e grazie anche alla visual form inheritance che ci permette di avere una classe base per questi frame senza dover andare a ritoccare del codice in uno specifico e fare delle come dire degli scamotage che ci renderebbe in un certo senso difficile poi agire di per sé sulla pagina detto questo detto questo direi che per questa sera ne abbiamo combinate a sufficienza torno nella visualizzazione classica anche se stasera è molto agnotata delle cose strane per farvi un po' i saluti a ringraziare chiaramente sempre chi si collega sempre presente quasi sempre ma do anche un'occhiata vediamo se c'è qualcuno su sul buon twitch non questo sono io ma questa è la mia voce non sarebbe esserci gli amici di pausa caffè che quasi quasi mi vado a a fare un ride che mi hanno lanciato una proposta strana di fare una live giocando quindi sarebbe veramente adesso non so se andrà in porto tecnicamente però in quel caso sarà divertente la ospiterò sul canale perché deve essere buffo da da provare da sperimentare giocare in è un gioco che tra l'altro mi fa un po' di spavento invece di andare a caccia di fantasmi e quindi hanno proposto facciamo questo gioco assieme in live va bene io lo gioco in solito da solo ma mi piglio degli spaventi quindi potrebbe essere divertente una divagazione della programmazione forse la settimana prossima giovedì prossima adesso vediamo vi terrò comunque informati in ogni caso niente grazie di nuovo se rimanete qui io faccio il ride agli amici di pausa caffè così li salutiamo e direi che ci vediamo la prossima volta grazie ancora buona fine settimana e buona pasqua soprattutto perché non è una cosa indifferente quindi se avete occasione di rilassarvi buon anche buon relax ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti